PEDOFILIA ONLINE 5 arresti in Sicilia, tra cui 1 a Trapani. Incendi a Castelvetrano, presi di mira la Villa Falcone-Borsellino e il Polo Tecnologico. Scoppia l'emergenza rifiuti in tutta la provincia. Terra bruciata intorno al governatore Crocetta, si auspica il commissariamento. Sostegno alla pesca nella nuova politica comunitaria. Fervono i preparativi per la festa del pane a Borgata Costiera. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Tg8. Informazione, incidente a Marsala sulla strada statale 115 in direzione Mazzara del Vallo, all'altezza del bivio di Contradaferla. Un uomo è grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di ieri e il traffico è stato bloccato per un paio d'ore. Si sono scontrati un trattore e un camion che andavano nella stessa direzione. Nello scontro ha avuto la peggio il conducente del trattore che è stato subito trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Marsala, Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti polizie e carabinieri che hanno fatto i rilievi e regolato il traffico. Pedofilia online, 5 arresti in Sicilia, fra cui uno a Trapani. Sentiamo il servizio. 8 persone arrestate, 13 denunciate, 21 perquisizioni e centinaia di migliaia di file, audio e video sequestrati. E' il bilancio di un'operazione antipedofilia portata a termine dalla polizia postale di Palermo contro un gruppo di pedofili che scambiavano su internet immagini e video pedopornografici. Gli 8 arrestati, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Firenze e i rimanenti 3 rispettivamente nelle province di Milano, Trapani e Agrigento, sono stati colti in flagrante mentre condividevano un'enorme quantità di immagini e video con scene di violenze sessuali con bambini in tenerissima età, alcuni dei quali addirittura infanti. Tra gli arrestati ci sono un vigile del fuoco 34enne, un 54enne disoccupato, un infermiere di 58 anni, un 60enne impiegato comunale, uno studente 21enne, un docente 60enne addetto a compiti amministrativi, un elettricista di 63 anni e un pensionato di 62. I file sequestrati sono oltre 10.000 e su di essi ora si concentrano le attività di analisi finalizzate all'identificazione delle giovani vittime. Tutti gli arrestati si muovevano sul web in forma anonima e custodivano le immagini e i video in hard disk crittografati. Un incendio è stato appiccato agli alberi della villa Falcone Borselino a Castelvetrano proprio poco dopo la conclusione della cerimonia in ricordo della strage di Via D'Amelio. È la quinta volta nel giro di pochi mesi che la villa viene incendiata. A rendere omaggio alle vittime erano stati poco prima il sindaco Felice Errante e il commissario straordinario per il consiglio comunale Francesco Messineo che avevano deposto una corona di alloro all'interno della villa comunale. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. E a fuoco anche gli sfalci del polo tecnologico di Contrada Aerone di Castelvetrano. Le fiamme sono partite dalle campagne vicine intorno alle 5.30 e sono arrivate all'ambire la montagna di sfalci che ha preso fuoco mentre cinque campane sempre della Belice Ambiente sono andate distrutte. Gran lavoro dei vigili del fuoco di Castelvetrano e Salemi che hanno fatto arrivare anche un'autobotte comunale e una della Belice Ambiente. Per fortuna il vento soffiava verso est. Le fiamme che hanno prodotto una colonna altissima di fumo nero non sono arrivate a interessare i vicini padiglioni. E parliamo adesso del processo d'appello scaturito dall'operazione antimafia Eden dopo la ringa dell'avvocato Celestino Cardinale. Adesso si attende solamente la sentenza prevista per settembre. Sentiamo. Se Anna Patrizia Messina Denaro è stata seguita e pedinata dalle forze dell'ordine, come è possibile che nessuno si sia accorto degli eventuali incontri con il fratello? E' quanto ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Palermo l'avvocato Castelvetranese Celestino Cardinale, legale della sorella del boss latitante e di Antonino Rosciuto. Con la ringa di Cardinale si è conclusa la lunga fase dedicata alle difese nel processo di secondo grado relativa all'operazione antimafia Eden che in primo grado davanti il Tribunale di Marsala si concluse con la condanna a 13 anni di carcere per la sorella di Matteo Messina Denaro e da 16 anni per Francesco Guttadauro, il nipote del cuore del potente capo mafia. Entrambi furono ritenuti colpevoli di associazione mafiosa, la sorella però per concorso esterno è tentata estorsione a Rosetta Campagna, una delle eredi di Caterina Bonagiuso, madrina di battesimo di Anna Patrizia Messina Denaro. Quest'ultima è stata invece assolta dall'accusa di estorsione a Girola Malacaccia, altra erede della Bonagiuso. Dall'accusa di assoluzione mafiosa fu assolto Antonino Losciuto, ex direttore tecnico dell'impresa BF Costruzioni di Giovanni Filardo, cugino del latitante, già condannato per mafia. Anche per Losciuto però il procuratore generale Mirella Agliastro ha chiesto la condanna. Un aumento di pena è stato poi invocato per Anna Patrizia Messina Denaro. L'avvocato cardinale ha inoltre contestato l'accusa di estorsione affermando che perché si configuri questo reato è necessario che vi sia un'intimidazione, ma i fratelli Campagna hanno detto di non essersi intimiditi. Da Alcamo, dove alcuni anni fa, quando fu introdotto il reato di stalking, venne scoperto dai carabinieri uno dei primi casi in Italia, stavolta arriva l'assoluzione di un infermiere accusato dalla moglie. La vicenda ha avuto inizio quattro anni fa, quando la donna denunciò il marito che, secondo le accuse, la costringeva ad una vita fatta di continue persecuzioni che si sarebbero concretizzate soprattutto con l'invio di sms. Il giudice, che nel corso del dibattimento ha ascoltato alcuni testimoni che conoscono bene la coppia, alcuni vicini di casa, ha accolto la tesi difensiva assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. Il giudice del lavoro di Trapani ha respinto la richiesta di reinserimento immediato da parte di un lavoratore forestale ex articolo 700 presso gli elenchi del personale forestale stagionale che può essere chiamato al lavoro. Il soggetto interessato ha scontato condanne per diversi reati riportando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pertanto non può intrattenere alcun rapporto con la pubblica amministrazione. Faceva parte di un primo elenco di espulsi dal bacino dei forestali nel mese di maggio. Il lavoratore è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali per 1.500 euro. Nel Trapanese cresce di giorno in giorno l'entità dell'emergenza rifiuti. Sentiamo. In provincia di Trapani è sempre emergenza rifiuti. A Marsale è andata ancora una volta a fuoco l'isola ecologica del quartiere popolare di Amabilina. E dopo i sindaci di Castelvetrano e Mazzara parla il primo cittadino di Valderice, Giacomo Spezia, che in una nota inviata a tutte le autorità parla di emergenza, soprattutto per le città a vocazione turistica. Spezia sottolinea come l'emergenza riguardi i 220.000 abitanti degli 11 comuni che fanno parte della SRR Trapani Nord, società del quale è presidente e che hanno una raccolta differenziata intorno al 35%. Cifra molto lontana dal 65% richiesto dall'Unione Europea, ma sicuramente maggiore della media regionale che si attesta al 12%. Datti alla mano i comuni interessati su disposizione della regione siciliana conferiscono alla discarica di Trapani in contrada borranea meno di quanto raccolgono e i rifiuti che rimangono in strada sono molti di più. Dalla tabella comparativa tra fabbisogne e quantità autorizzate si evince che i comuni più in sofferenza sono Marsala, San Vitolo Capo e Castellammare del Golfo, seguiti da Favignana e Derice. Calatafimi e Valderice sono gli unici due comuni con un saldo ancora favorevole fra la quantità di rifiuti prodotti e quella che sono autorizzati a conferire in discarica. La drammatica emergenza igienico-sanitaria che si registra a Mazzara del Vallo per l'accumulo di rifiuti viene acuita dall'irragionevole comportamento del gestore della discarica di Trapani che impedisce al comune di Mazzara di smaltire quanto previsto dalla già stringente ordinanza del presidente della regione che autorizza lo smaltimento di 56 tonnellate al giorno nella discarica di Trapani per il comune di Mazzara del Vallo. Lo scrive in una nota lo stesso comune di Mazzara. Ieri la discarica di Trapani ha autorizzato lo smaltimento di un solo mezzo per un totale di 11 tonnellate a fronte dei 5 mezzi presenti dinanzi i cancelli dell'impianto. L'accumulo dei rifiuti sulle strade pertanto ha raggiunto le circa 700 tonnellate. Intanto con una nuova ordinanza della regione il comune di Mazzara da domani potrà abbancare fino a 65 tonnellate di rifiuti. E la procura di Marsala apre un fascicolo d'inchiesta sulla situazione dei rifiuti a Mazzara del Vallo e Castelvetrano. Lo ha detto all'AGI il procuratore capo di Marsala Vincenzo Pantaleo è in prefettura per le audizioni della commissione parlamentare antimafia. Abbiamo recepito gli esposti dei sindaci dei due territori a detto e sono in corso delle indagini per individuare delle responsabilità penali. E il presidente Crocetta oggi rimproverà i comuni che sono senza piani per la raccolta differenziata e invierà i commissari. Sentiamo. Circa il 20% delle amministrazioni comunali siciliane non ha ancora messo a punto i piani per la raccolta differenziata. La scadenza era sabato scorso e pertanto partiranno subito i commissariamenti di questi comuni. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha riunito tecnici e dirigente del Dipartimento Rifiuti per fare il punto sull'emergenza. La situazione è ancora difficile in molti comuni, soprattutto a Carini. Secondo il governatore, l'immondizia non viene raccolta perché il personale rifiuta il trasferimento della società che ha vinto la gara d'appalto. Ma i sindacati contestano le procedure dicendo che prima gli operai dovrebbero essere assunti nelle SRR e solo dopo passare agli affidatari degli appalti di smaltimento rifiuti. In riunione si è discusso anche dell'obbligo di raccolta e conferimento in discarica la domenica, soprattutto nel periodo estivo che Crocetta vuole disporre. Intanto è stata rilasciata l'autorizzazione per il biostabilizzatore mobile della discarica. di Siculiane, così tra una decina di giorni nella struttura agrigentina potranno essere smaltite fra 110 e 140 tonnellate di rifiuti. Si tratta di impianti che permettono di aumentare la capienza delle discariche, come già avvenuto a Bellolampo dove sono state smaltite 600 tonnellate di immondizia. Si prevede che entro il 25 possa essere attivo anche quello di gele e a seguire quello di trapani, un cronoprogramma che fa dire a Crocetta che la situazione si sta normalizzando e gli accumuli saranno smaltiti a breve. E ormai è terra bruciata intorno al governatore Crocetta, anche la senatrice Pamela Orru intervenuta sulla vicenda rifiuti auspica il commissariamento da parte del governo nazionale. Sentiamo. Nella commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati, la cosiddetta commissione comafie, abbiamo concluso l'esame ed approvato la proposta della relazione territoriale sulla regione siciliana. Una relazione corposa che riassume l'attività di indagine parlamentare svolta e dalla quale si evince lo stato dell'arte del ciclo dei rifiuti in Sicilia, una delle regioni italiane più critiche, costantemente in stato di emergenza. Lo dice la senatrice del Partito Democratico Pamela Orru. Dalla relazione con Tino Orru si evince anche la totale incapacità di gestione da oltre un decennio da parte dei governi regionali e l'inerzia e l'incapacità unita alla totale mancanza di volontà politica ed amministrativa dell'attuale governo regionale di predisporre la programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di portare avanti una reale pianificazione. Nella relazione si ricostruisce la presenza di un sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli alla risoluzione delle problematiche esistenti ormai da decenni. Alla luce della condizione attuale che va oltre l'emergenza e visto anche quanto emerso dal lavoro svolto dalla Commissione Ecomafie, l'unica soluzione possibile conclude la Orru e il commissariamento da parte del Governo nazionale. Domani mattina alle 8.30 si riunisce il Consiglio Comunale di Mazzara, 36 punti iscritti all'ordine del giorno. Tra questi figurano l'approvazione del piano di miglioramento dei servizi di polizia locale per il 2016, il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la presa d'atto dei controlli interni sulla qualità dei servizi per il 2015. Altri punti riguardano l'approvazione del piano urbano della mobilità e la modifica al regolamento sui lavori del Consiglio Comunale così come numerose mozioni. Giovedì prossimo alle ore 17 presso il Mara Hotel di Mazzara in programma il convegno che ha per titolo i giorni del gambero, presente e coordina Attilio Vinci, giornalista e scrittore. Dopo i saluti del sindaco Nicola Cristaldi e del presidente dell'Associazione Innovazione Cultura Antonino Sanmartano, Paolo Giacalone illustrerà come e dove si pesca il gambero, al quale seguirà la relazione del professore Dugo dell'Università di Messina su risorse organolettiche e nutrizionali del gambero rosso, quindi il gambero nella dieta per i bambini del pediatra professore Italo Farnetani. Del ruolo del gambero rosso nell'economia ittica di Mazzara ne parlerà il professore Filippo Sgroi dell'Università di Palermo e infine lo chef Pietro Garziano parlerà del gambero a tavola. Concluderà il convegno a Attilio Vinci sul tema il gambero identità da comunicare. A Catania si è svolto un convegno di riflessione sugli effetti del programma operativo FEAMP 2014-2020, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, il principale strumento di sostegno alla nuova politica comunitaria della pesca. Il piano prevede quattro obiettivi strategici. Sentiamo ai microfoni del sito Pesce in Rete il dottore Franco Andaloro, l'assessore regionale Cracolici e l'onorevole Castiglione. Siamo ad avvio di programmazione, noi vogliamo utilizzare proficuamente quelle risorse che sono messe a disposizione del nostro paese, vogliamo evitare gli errori del passato, l'amministrazione ha fatto un grande salto di qualità facendo gli accordi partenariato, lavorando ad un accordo con le regioni, un accordo assolutamente condiviso per meglio utilizzare queste risorse. Noi vogliamo accettare la sfida della riserva di performance, quel 6% di risorse che oggi la Commissione europea potrebbe destinare alle regioni più virtuose o a chi utilizzerà in maniera più proficua le risorse messe a disposizione. Non vogliamo correre il rischio di uno stop, per esempio nel 2019, che è dovuto alla mancata utilizzazione delle risorse comunitarie. Quindi partiamo col piede giusto, partiamo già con una marineria che attende queste risorse, con l'impresa che sa oggi che la competitività dipende anche dalla qualità dell'ambiente, dall'evitare il depavoramento degli stocchi ittici e soprattutto di un'impresa che vuole investire in innovazione, di un'impresa che deve investire nella ricerca, di un'impresa che deve valorizzare il proprio pescato, di un'impresa che deve far tornare i giovani ad amare questa attività molto bella e soprattutto quindi da un lato la tutela del nostro ambiente marino, da un lato evitare il depavoramento degli stocchi ittici, dall'altro lato un'impresa sempre più competitiva. Sì, è uno strumento che può essere utilizzato dai pescatori che fanno attività a mare, ma anche dei pescatori che fanno attività a terra, infatti questo è il fondo per gli affari marittimi e quindi negli affari marittimi c'è un'attività che intrinseca l'attività propria della pesca, ma anche la valorizzazione delle nostre borgate marinare, delle nostre tradizioni, di un'economia del mare che si svolge anche a terra, con l'itto turismo, con la pesca turismo, con attività che in qualche modo devono consentire ai pescatori di avere un reddito ulteriore integrato rispetto a quello della sola pesca. Però va detto con grande onestà che il FEAMP non può apparire, non può essere vissuto come un fondo che alla fine finisce per deprimere il ruolo dei pescatori, la quantità di pescatori nel rapporto col mare. Noi abbiamo bisogno sì di modernizzare il nostro sistema della pesca, ma questo non può passare all'idea che per migliorare la qualità e l'attività del mare bisogna ridurre i pescatori. Spesso con regolamenti che finiscono per dare un'idea, un'immagine dell'Europa come un'Europa che ostacola le attività della nostra economia, mentre paradossalmente nello stesso mare che noi condividiamo con altri paesi e con altri continenti, coloro che usano lo stesso mare hanno regole diverse. Il percorso non può essere digiunto tra produzione e tutela, quando lo è stato ci sono generati quei problemi che ci hanno portato oggi al sovrasfruttamento. Feamp sì, ma un Feamp importante perché deve guidare la pesca fuori dalla crisi nei principi della sostenibilità che significa utilizzo delle risorse creando ricchezza distribuita nel rispetto dell'ambiente perché lo utilizzino le generazioni future. Questo è un enunciato difficilissimo da compiere, la strada è in salita, dobbiamo cominciare subito per evitare che il retaggio di questo Feamp non sia sviluppo reale ma sia ancora una volta un errore che pagheremo negli anni. Accogliendo un'istanza della società concessionaria del servizio di trenino turistico, l'amministrazione comunale di Mazzara ha accettato una rimodulazione inerente alla regolamentazione dello sbigliettamento del servizio giornaliero. Si continuerà a pagare un euro dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19 ma il biglietto sarà valido per una sola tratta d'andata e una sola tratta di ritorno, mentre fino a ieri conservando il biglietto era consentito usufruire fino alle ore 19 del servizio senza limiti di corsa. La rimodulazione serve a regolamentare meglio le corse e consente a più persone di usufruire del servizio. Il servizio estivo di trenino turistico gommato è autorizzato sino al prossimo 30 settembre. Parliamo adesso di ricette mediche. Il governo ha deciso di non portare avanti il cosiddetto decreto appropriatezza che non prevedeva il ticket per alcuni esami sanitari. I malati non dovranno più pagare di tasca propria gli esami medici ritenuti non appropriati. Il governo, si legge sul portale di informazione giuridica, la leggepertutti.it, ha fatto dietro fronte sul famigerato decreto che tagliava il ticket per ben 203 prestazioni sanitarie e battezzato appunto decreto appropriatezza. Fra le oltre 200 prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del giro di vite ce n'erano alcune di estrazione e ricostruzione dei denti, l'applicazione di apparecchi mobili o fissi, esami di radiologia diagnostica come TAC e risonanza magnetica della colonna degli arti superiori e inferiori insieme alla densitometria ossea. E ancora erano previsti i precisi paletti su esami di laboratorio come colesterolo totale e HDL e LDL, trigliceridi, solo in persone con più di 40 anni e con fattori di rischio cardiovascolare o familiarità, da ripetere a distanza di 5 anni. Test allergologici, teste per valutare la compatibilità in caso di trapianto, esami di dermatologia allergologica. La normativa prevedeva sanzioni elevate nei confronti dei medici di base che avessero prescritto delle prestazioni sanitarie non strettamente necessarie. Il paziente, che avesse comunque voluto procedere all'indagine, non avrebbe potuto usufruire del ticket, ricorrendo così per il 100% della spesa al proprio portafoglio. I medici tornano quindi liberi di prescrivere tutto quanto ritengono necessario alla tutela della salute sulla base delle evidenze scientifiche. Ed è proprio questo, sottolinea la leggepertutti.it, il messaggio che i pazienti leggeranno dai prossimi giorni sui manifesti affissi negli studi privati. Insomma, viene così riprestinata la piena autonomia del medico di famiglia nell'indicare sulla ricetta tutte le prestazioni sanitarie che, secondo il proprio insindacabile parere, risultano necessarie al caso di specie. L'istituzione Marsala Scola rende noto che è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016. Sono interessati gli studenti frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado, i cui nuclei familiari producano un'isee con un valore massimo di 10.632 euro circa. Le istanze dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre alla scuola di appartenenza. Bando e modello istanza anche su www.massalascola.it. Ieri sera al Teatro Antico di Segesta dieci minuti di applausi hanno seguito la pièce teatrale Giovanni e Paolo dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Sentiamo. Una grande serata quella di ieri sera a Segesta, una serata dedicata alla memoria dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone a 24 anni dalla loro uccisione. Di scena al Teatro Antico di Segesta la pièce teatrale Giovanni e Paolo, testo scritto dal giudice Alessandra Camassa e che rappresenta un colloquio immaginario fra i due giudici Falcone e Borsellino dopo la loro barbara uccisione. Un colloquio che traccia anche la personalità dei due magistrati, l'uno rigoroso, l'altro più esuberante. Una pièce a tratti triste e a tratti comica, ma comunque reale. Una pièce teatrale che è tanto emozionato il pubblico che ha seguito con grande partecipazione l'evento. Un pubblico che non ha esitato alla fine a tributare oltre dieci minuti di applausi agli attori Gaspare Balsamo e Dario Garofalo che hanno interpretato magistralmente la figura dei due giudici ammazzati nelle stragi del 92 dalla mafia e Giussi Zaccagnini, la donna senza nome, figura però sempre presente in scena. A Giussi il compito di chiudere la pièce con la sua straordinaria voce. Fra i presenti all'evento anche Pier Camillo Davigo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e la presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Rosi Bindi. Si avvicina la festa del pane in programma Borgata Costiera. Sarà la seconda edizione e fervono i preparativi interessanti alcuni murales realizzati da giovani artisti. Sentiamo l'assessore Vito Billardello e l'artista Fabio Accardo. Penso che quest'anno si ripete un'esperienza bella per la città di Mazzara del Vallo ma soprattutto per una borgata importante e interessante qual è Borgata Costiera. Penso che l'iniziativa di chi ha voluto fortemente il ripetersi di questo evento è sicuramente da applaudire. L'amministrazione comunale della nostra città sicuramente ha sempre sposato e sponsorizzato eventi di questa importanza. Un esempio a mio avviso da prendere anche per altre zone e altri quartieri e contratti della città perché penso che quando c'è la disponibilità e l'idea progettuale di alcuni soggetti e quando questa idea viene sicuramente sopportata dalle associazioni, dalle amministrazioni, dalle istituzioni e soprattutto anche dagli abitanti di un quartiere e di un luogo, sicuramente quell'idea rappresenta e diventa un qualcosa di importante che va sposato, va sponsorizzato, va aiutato perché provoca sicuramente una crescita dell'intera città sotto quello che può essere l'aspetto turistico e l'aspetto evolutivo della città di Mazzara del Vallo. Sono sicuramente degli eventi che arricchiscono innanzitutto l'intera città di Mazzara del Vallo perché ripeto che al di là di Borgata Costiera sono degli eventi che sicuramente avranno una caratura e una risonanza che andrà fuori anche dal nostro territorio e quindi rappresentano un punto di attrazione di cui beneficeranno sicuramente tutti i cittadini mazzaresi. Sicuramente ci sono diversi artisti che in maniera spontanea si sono adoperati per poter realizzare queste importanti opere eccezionali sotto l'aspetto architettonico e artistico e che sicuramente rappresentano un'importante cornice a un evento che ha una valenza più elevata che è proprio quella della festa del panne che svolgerà a Borgata Costiera. Questo Morales lo realizzerò insieme ad un altro pittore che si chiama Salvatore D'Angio. Il tema di questo Morales sarà i pani di San Giuseppe, cioè sarà un tributo al lavoro dei contadini, al lavoro del pane che è legato anche alle famiglie e poi è il tema principale di questa festa. Al via l'appuntamento è ormai fisso con il Cineforum organizzato dall'Associazione Socioculturale Quattro Rocce di Paceco. Per l'estate 2016 è previsto un percorso attraverso le fasi della vita dal titolo da 0 a 99 anni. Oggi alle ore 18 presso Contrada Birgi Vecchi prenderà il via la rassegna estiva Grande Musica. L'evento è promosso dalle associazioni AST Marsala e Pro Birgi. Sarà presentato il 22 luglio alle ore 18.30 nell'atrio del castello Normanno Svevo di Salemi l'ultimo libro del giornalista Giacomo Di Girolamo dal titolo Contro l'antimafia. Nella città di Mazzara del Vallo dal 23 luglio al 31 agosto andranno in mostra le fotografie dell'artista mazzarese Peppe Linea. La mostra intitolata Attimi avrà luogo presso l'eco shop Vegeta di via Garibaldi 14. La mostra Attimi è un insieme di scatti, di momenti rubati o condivisi, ricordi di luoghi in cui siamo stati o nei quali abbiamo passato parte della nostra vita. Attimi rappresenta un insieme di ricordi felici, pieni di gioia o tristi che lasciano il segno. Questa sera si riparte con i mercoledì revival del Batita 607080. Il tema della serata è Flower Power, la fantastica moda dei figli dei fiori. In console Marietto, Lopez, Cece, Mariana Già e Alex C. L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all'associazione Wildim Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare per l'acquisto di un pulmino per trasporto disabili. L'ingresso è 5 euro. E parliamo di calcio, ancora un colpo di mercato per la Folgore Selinunte che ha tesserato il difensore ex Mazzara Davide Locascio. Intanto per domani pomeriggio è previsto il raduno di giocatori e staff tecnico. Sentiamo il servizio. Dopo le conferme dei giorni scorsi, la SD Folgore Selinunte piomba nuovamente sul mercato e si assicura le prestazioni sportive del difensore Davide Locascio. A condurre la trattativa andata in porto nella giornata di ieri è stato il direttore sportivo Renzo Calamia. Locascio, classe 96, è un difensore laterale dotato di senso tattico, buona fisicità e tanta personalità. Il giocatore arriva dal Mazzara Calcio con cui, proprio nella stagione appena trascorsa, ha conquistato la Coppa Italia regionale e sfiorato quella nazionale. Intanto i giocatori rossoneri e tutto lo staff tecnico Folgorino, capitanato da mister Nicola Terranova, si godono le ultime ore di relax prima del raduno precampionato fissato per la giornata di domani. Proprio nel primo pomeriggio di domani, infatti, atleti e staff tecnico si ritroveranno allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano per i consueti test atletici e le visite mediche, preludio del raduno vero e proprio previsto per lunedì 25 luglio, giorno in cui prenderà ufficialmente il via la preparazione atletica. Un mese esatto di lavoro, articolato con doppie sedute che si alterneranno fra il a Boschetto della Digadelia, dove il gruppo svolgerà la parte atletica, e lo stadio Paolo Marino, dove invece la squadra si concentrerà sull'addestramento tecnico-tattico. A scandire le settimane di preparazione ci saranno diversi amichevoli che accompagneranno la truppa rossonera fino al 28 agosto, giorno del debutto stagionale in Coppa Italia. Intanto la società rossonera continua a tenere un occhio sul mercato a caccia di una punta che probabilmente potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E con questa notizia anche per oggi noi siamo arrivati in chiusura. Il Tg8 Informazione ritornerà puntuale domani alle ore 14. Una buona serata.